Ciao a tutti, sono Andrea Piccoli, l'autore del racconto Lo specchio, che fa parte di una raccolta intitolata Fogli Luminose. L'idea del racconto nasce da uno spaccato della società di oggi, quindi diciamo che punta molto su un aspetto sociale. Ambientazione, diciamo che è sicuramente legato alla realtà di oggi, in una città, una cittadina italiana. Ho avuto a che fare nella mia vita con aspetti legati a questa tematica, anche da vicino, e volevo proprio portarli all'attenzione attraverso le mie parole. Credo si adatta a una trasposizione cinematografica proprio perché queste situazioni devono essere portate ancora più all'attenzione di tutti, della gente. La raccolta Fogli Luminose è stata, si è ricevuto dei riconoscimenti in altri concorsi letterari. Per il futuro, diciamo che questo progetto, questa raccolta di racconti Fogli Luminose, era legata a un progetto musicale, sempre mio, da solista, intitolato Bright Leaves, corrispettivo di Fogli Luminose, e per il futuro prevedo probabilmente un romanzo, o comunque altri scritti, anche racconti potrebbero essere, sempre diciamo legati a un aspetto sociale. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione.